Salve! Nel contributo odierno commenteremo uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura americana del XX secolo, vale a dire La veglia all'alba, The Morning Watch di James Hedgie. James Hedgie, per chi non lo conoscesse, è stato uno dei più grandi scrittori, giornalisti, narratori americani del primo novecento. Lui era nato nel 1909 da una famiglia modesta, comincerà a dedicarsi alla scrittura intorno agli inizi degli anni trenta, ricordiamo le sue prime raccolte di poesie, la prima intitolata Permit Me Voyage del 1934, poi anche ovviamente i suoi romanzi come Let Us Now Praise Famous Man del 1941 e appunto The Morning Watch del 1951. Purtroppo la vita di Hedgie non sarà una vita molto lunga, dato che purtroppo morirà nel 1955 e il suo ultimo libro intitolato A Death in the Family verrà pubblicato postum e riuscirà anche a ricevere, a ottenere il premio Pulitzer nel 1958. Oltre chiaramente al lavoro come romanziere e anche come poeta, sono stato importante il suo lavoro anche come saggista e drammaturgo, tanto che alcuni dei suoi testi sono stati successivamente tradotti in versioni cinematografiche, pensiamo al film L'Uomo Tranquillo o La Regina d'Africa. Perché parlare di un romanzo come The Morning Watch? Intanto di che parla questo grandissimo testo, è ovviamente uno dei più bei romanzi americani del primo novecento, un romanzo che come abbiamo detto venne pubblicato nel 1951, anche se Hedgie iniziò a lavorarci, a scriverlo subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo romanzo anche cade proprio a fagiolo, diciamo così, l'idea di parlare di questo testo anche perché è ambientato durante il venerdì santo, durante la veglia che precede appunto il giorno di Pasqua, il periodo pasquale, e dal momento che abbiamo appena appunto ultimato le festività di Pasqua, mi sembrava appunto in qualche modo adatto, appropriato parlare di questo grande autore, considerato anche che questo testo è stato scritto proprio in un periodo storico come quello appunto della successivamente, subito dopo lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Sappiamo che infatti nel novembre del 1945 Hedgie era ancora sgomento in qualche modo per quella che considerava un errore terribile della politica americana, cioè appunto il lancio della bomba atomica. Tanto che il 15 ottobre aveva scritto questo articolo sul Time, in cui scrisse letteralmente, questo lo trovo molto appropriato visti i tempi di follia in cui viviamo, che l'umanità in generale è ancora largamente inconsapevole della situazione in cui si è venuta a trovare. Si parla molto di come rinchiudere il nuovo mostro in una gabbia indistruttibile, chiaramente per nuovo mostro si riferisce all'ordigno atomico, ma pochi ammettono che il vero mostro è la razza umana. Chiaramente c'è anche un grandissimo atto di accusa verso appunto questi strumenti della morte, perché come possiamo definirli che gli esseri umani hanno in qualche modo deciso di costruire, di fabbricare sul pianeta e che come vediamo oggi stanno mettendo a rischio anche l'esistenza stessa della nostra specie. Non a caso infatti successivamente, proprio in questo clima di grande paura anche noi, Hedgie, in questo clima di grande incertezza, anche di tendenze suicide come lui stesso definisce della politica internazionale americana, comincia a scrivere questo romanzo. Questo romanzo che poi verrà, come abbiamo detto, ultimato, pubblicato definitivamente nel 51. Il tema centrale di questo testo, The Morning Watch, la veglia all'alba, come stava tradotto in italiano, c'è appunto il problema della sofferenza e della morte nella storia appunto di questo ragazzo che si confronta con il mistero del venerdì santo. Il romanzo, tra l'altro è un romanzo breve, mi ero dimenticato di dirlo, che è ambientato negli anni venti, ambientato quindi in un periodo storico anche molto diverso da quello che ovviamente Hedgie aveva vissuto, rispetto a quello che Hedgie stava vivendo in quel momento. Nonostante ovviamente lui essendo nato nel 9 è come se volessi in qualche modo attraverso questo testo rievocare la sua giovinezza. Infatti è un romanzo proprio incentrato sul tema anche dell'adolescenza. Molto interessante sarà anche la recensione bellissima che consiglio anche di leggersi di Truman Capote, di questo grandissimo romanzo di James Hedgie. Ad ogni modo la storia, come stavamo dicendo, racconta, cerca di descrivere in poche ore della vita di un adolescente introspettivo, dove la storia si racconta in quella che possiamo definire una specie di prosa lirica, prosa poetica. Il romanzo è diviso in tre parti, nella prima parte si narra appunto di come il nostro Richard fallisca nel suo tentativo di rimanere sveglio tutta la notte a vegliare in questa cappella. La seconda parte invece viene descritto il tentativo, anche se reso vano, di Richard di provare ad incarnare e rivivere attraverso la preghiera, la morte di Cristo. Quindi c'è anche questo elemento simbolico, religioso, che è presente un po' in tutta anche la grande letteratura americana del Novecento, e non solo. E nella terza parte si narra appunto di come Richard e due suoi amici disobbediscano diciamo così all'ordine di tornare nel dormitorio dopo la veglia, sul far dell'alba, attraverso campi e boschi, a notare in questa grotta bagnata. In un'esperienza che potremmo definire quasi iniziatica. In queste due prime parti emerge ovviamente questo aspetto molto importante di come il nostro protagonista cerchi di avvicinarsi il più possibile al mistero della sofferenza, al mistero anche della morte di Cristo. Soprattutto infatti nella seconda parte, che possiamo definire anche la parte più condensata di tutto il romanzo, è focalizzata proprio su questi tentativi da parte di Richard di pregare, di condividere la sofferenza di Cristo anche con una certa intensità psicologica. Perché è un romanzo, come è stato da molti definito anche un romanzo iniziatico? Perché è un romanzo che analizza attraverso la vicenda di questo giovane una specie di necessità interiore di conoscere se stessi. Attraverso questa esperienza mistica che il nostro giovane vive, il nostro edgy non fa altro che cercare di raccontare anche quella che era la situazione in cui tantissimi giovani americani, e non solo, si erano venuti a trovare sul finire della seconda guerra mondiale. Pensiamo appunto a tanti giovani militari che erano stati tanti giovani mandati a morire lì sul fronte nipponico ovviamente, o incaricati di combattere guerre sempre più violente, sempre più micidiali. Se infatti nella prima guerra mondiale, che chiaramente Ege aveva vissuto più che altro da bambino in maniera abbastanza così non partecipativa. È stato il primo conflitto dove in qualche modo i soldati americani giovani sono stati chiamati ad andare e a morire praticamente per qualcosa che in fondo riguardava, per una guerra che riguardava l'Europa. La seconda guerra mondiale è come se il sacrificio diventasse sempre più grande. Non è un caso che successivamente dopo, subito dopo il conflitto, inizia poi la guerra di Corea, poi successivamente ci sarà la guerra del Vietnam. È come se in qualche modo questo aspetto anche del sacrificio, della mortificazione di se stessi, di come la morte, dice lo stesso Ege, diventi uno dei caratteri centrali della vita delle persone. C'è questa necessità appunto anche davanti ad una realtà che è costituita dalla violenza e dall'incertezza. Guardiamoci, come ho detto, è stato scritto questo romanzo proprio sul finire della seconda guerra mondiale. Averge invece questa necessità del giovane di trovare se stesso, che è una necessità che poi fa parte dell'uomo contemporaneo, dell'essere umano. Non è un caso che proprio l'altra volta abbiamo trattato un autore come Hemingway, che chiaramente è un contemporaneo di James Ege, così come nello stesso tempo anche Truman Capotev ha scritto The Grass Harp, uno dei suoi capolavori, come anche altri grandi autori del periodo, ricordiamo Faulkner ovviamente. C'è questa necessità da parte del giovane, di questa grande generazione, di voler scoprire anche il perché della loro vita, perché una persona deve essere sbattuta sul fronte per essere uccisa, per andare a morire, o appunto cosa ci spingono gli esseri umani a fare del male ai nostri simili, anche sono quelle domande indirette, perché comunque è un romanzo molto intimista potremmo definirlo, che l'autore cerca di porci. Non è un caso che infatti il critico R. W. B. Lewis, uno dei grandi critici americani del Novecento, diceva proprio che l'idea implicita in molti scrittori americani, Edgar Allan Poe, a Cooper, a Henderson, a Hemingway e appunto anche allo stesso Ege, è che il vero rito di iniziazione al nuovo mondo non sia per entrare nella società, bensì dato il carattere disumano della società per allontanarsene. Però chiaramente questo aspetto di voler conoscersi, che è appunto il percorso iniziatico che compie il nostro Richard assieme ai suoi amici, adesso ovviamente non stiamo ad entrare in tutta la vicenda, non deve essere vista come una volontà di fuggire dalle difficoltà del mondo, anzi al contrario, secondo Ege la necessità di conoscere e di esplorare la nostra anima, potremmo definirla, è una necessità che ci permette non solo di comprenderci meglio, ma di affrontare poi successivamente con dignità le responsabilità di un mondo che è pervaso dalla morte e dall'incertezza, ma in cui nello stesso tempo anche il sole, anche quindi l'ottimismo, anche quindi il lato bello della vita, può in qualche modo risplendere. Quindi chiaramente c'è anche questa componente di grande ottimismo, di grande volontà di vita, di grande voglia di vivere, di comprendere al meglio quello che noi siamo, in modo tale da poter dare anche il nostro contributo nel miglior modo possibile alla società stessa. E con questo vorrei anche arrivare proprio a leggere la parte finale di questo nostro romanzo. Ora che si trovava di nuovo con loro, sentì che la sua debolezza era diminuita e cominciò a chiedersi che cosa mai avesse potuto renderlo così fiacco e infelice, e che genere di punizione li aspettasse. Poteva ora vedere con estrema chiarezza gli occhi duri e stanchi di padre Whitman saittare verso di loro, appena usciti dal bosco, coi capelli appuntiti dall'umidità che li incriminava, e per quanto temesse la punizione, che senza dubbio sarebbe consistita in una buona dose di frustate, temeva ancora di più il primo incontro con quegli occhi e le prime parole che sarebbero state dette, sebbene sospettasse che l'eccezionalità del giorno le avrebbe temperate. O di Jimmy dire a Hobbe che sarebbe stato preferibile liberarsi di quel serpente, e anche egli pensò che sarebbe stato molto meglio farlo, e non rimase né stupito né particolarmente turbato quando, pochi istanti dopo, Hobbe scagliò il serpente in mezzo ai maiali. Rimase con gli altri contro lo steccato a guardare affascinato due maiali che grugnendo e squittendo si azzuffavano sul serpente, lo straziavano proprio nello squarcio a metà del corpo, e mentre le due porzioni fremevano ancora nell'etame, infine lo ingollavano. Gli venne in mente, con una fitta lancinante di pietà e di orrore, che il serpente era ancora vivo e sarebbe rimasto vivo nei loro ventri, pur masticato e maciullato, e sciolto dagli acidi fino alla fine di quel giorno. Ma poi, rammentandosi della testa, si disse che il serpente doveva ormai essere così lontano da trovarsi al di là di ogni possibilità di sentire mai più qualcosa. La frase lo colpì. Chi l'aveva detta? Sua madre? Papà è rimasto terribilmente ferito e allora il Signore lo ha preso con sé in cielo e lui non tornerà con noi mai più. Mai più, udì la propria voce silenziosa a ripetere nel suo intimo e un istante dopo smise di pensare con eccessiva pena al serpente. Quando i due ragazzi si staccarono dalla staccionata, li seguì verso il padiglione centrale, portando, con difficoltà sempre minore a ogni passo, quel peso decrescente nell'anima e nel corpo, la mano destra abbandonata con un senso di sottile saltazione lungo la coscia, mentre la sinistra sosteneva con atteggiamento squisitamente protettivo l'involucro senza corpo che gli posava sul cuore. Grazie.